Oggi Arsasilins incontro con i tifosi al termine di questa stagione che poteva regalare una grande soddisfazione però non è arrivata l'impresa a Milano. Sì, siamo stati vicini a questa impresa però ci è mancato qualcosina. In gara 4 non abbiamo fatto il nostro meglio però l'avversario era molto forte e sapevamo che squadra è Milano. Secondo me abbiamo fatto bene però peccato che è mancato un passo alla semifinale. Sei arrivato a stagione in corso, qual è il bilancio personale di questa stagione ad Avellino e quali sono le tue prospettive per il futuro? Questa stagione per me è stata diversa da tutte quelle altre che ho fatto. Ho cambiato le squadre e non è stato facile entrarsi subito in questa squadra però direi che abbiamo fatto bene con tanti alti e bassi però l'esperienza è stata positiva. Poi per l'anno prossimo è tutto ancora da vedere. Parlando con Lolo D'Ercole ha sottolineato l'aspetto degli infortuni. Con la City Gas a completo sarebbe stata ben altra storia sia in campionato che in Europa. Sono stati tanti infortuni, sono stati veramente tanti infortuni e certo che è peccato che non siamo stati mai tutti insieme per più di una settimana. Purtroppo è cambiato un po' le cose anche in campo però con tutto questo abbiamo combattuto fino a fine. Sono orgoglioso dei miei compagni che ha dato tutto fino a fine.